Buongiorno e benvenuti, anche se virtualmente, a questo importante incontro organizzato da Sapienza Università di Roma in partnership con Culture SRL. Questo incontro è rivolto alla creazione di importanti strumenti di comunicazione e disseminazione su una materia alquanto calda che è quella dei medical device. In particolare oggi ci occuperemo soprattutto di quello che è il ruolo dei medical device nella diagnostica, nella gestione dei pazienti a livello territoriale o addirittura a livello domiciliare e della sicurezza di questi in relazione soprattutto all'utilizzo di dati sensibili che il medical device può registrare. La giornata è organizzata in una mattinata qui nella bella sede Sapienza di Palazzo Baleani, dove più di 40 esperti di multiple discipline, parliamo di professori universitari, ricercatori, medici, ma anche di manager di industria, manager di istituzioni sanitarie nazionali di rilievo nazionale e altri stakeholder. Questi esperti si confronteranno con lo strumento del co-design della tavola rotonda in maniera democratica con una discussione proattiva sui temi che ho menzionato all'interno di tre tavole rotonde coordinate da esperti di rilevanza internazionale. L'obiettivo è quello di ottenere del materiale per una comunicazione esperta in questo ambito, laddove spesso sia per una disseminazione alla società o alle istituzioni mancano materiali che sono redatti e validati da un'opinione esperta. Questi deliverables che oggi verranno prodotti da tavole di lavoro verranno poi presentati in un evento di disseminazione che verrà svolto in partnership con l'ambasciata di Spagna presso la Santa Sede nella prestigiosa sede dell'ambasciata stessa a Piazza di Spagna. In questa sede abbiamo convocato un ottimo esito importante di istituzioni nazionali e internazionali grazie alla carissima ambasciatrice e lì porteremo questi risultati. Questo è il primo step di una disseminazione, di una condivisione che mira a aumentare la consapevolezza su argomenti molto diciamo caldi per la società, per l'economia, per l'industria. Pertanto invito a partecipare anche a distanza a questo importante evento.